Due coniugi 75 anni di Castel San Giovanni sabato sera sono stati tenuti in ostaggio nella loro abitazione da tre uomini armati che non hanno esitato a minacciarli di morte pur di farsi aprire la cassaforte. I tre malviventi attorno alle 8 di sera hanno fatto irruzione nel soggiorno della billetta lungo via Raldi, zona liceo. Hanno separato i due coniugi e mentre uno della banda guardava vista la donna, gli altri due hanno trascinato il marito in giro per la casa minacciandolo con una pistola e un cacciavite. L'uomo è stato a più riprese strattonato e malmenato. È stato molto spesso detta la frase attento che ti uccido con un cacciavite, questo tale potente, questo mino robusto e più grasso era quello forse che comandava il gruppo e mi assalivo continuamente perché non credeva che io non potessi trovare la chiave della cassaforte, cosa che invece non trovavo proprio. Un pugno l'ho preso sul labbro e naturalmente la chiave non saltava fuori quindi lui era sempre più incattivito. Dall'altra parte c'era mia moglie che cercava di difendermi urlando quello lì lasciate stare mio marito perché altrimenti anche io un giorno vi vendicherò. Non so, mi sono ritrovata con una forza che non avrei mai immaginato di avere soprattutto in queste condizioni, ecco però io ero preoccupata soprattutto per mio marito perché ha avuto dei problemi di salute quest'anno e sentivo che nell'altra stanza lo stavano maltrattando diciamo. E quindi ogni tanto alzavo la voce e gridavo di non fargli del male però con anche questo rapinatore che era vicino a me parlavo chiedendogli di andare a dire all'altro di non fargli del male perché questo mi sembrava meno esperto di rapine e più giovane e meno non è mai stato aggressivo con me. Solamente mi chiedeva di tacere. Sempre attorno alle 8 di sabato sera in zona Poggio Salvini un uomo incappucciato ha tentato di entrare nell'appartamento al primo piano di una palazzina ma è stato messo in fuga dal proprietario di casa che ha tirato dal rumore di un vetro rotto e ha corso e ha fatto fuggire il ladro.